Questa è la stagione delle gare podistiche, stamattina a Roma si è corsa Vivi Città che punta a valorizzare le periferie. La seguita per noi, Cristina Caruso. Dopo 13 anni d'assenza dalle vie, dalle strade della nostra città, torna con una scelta un po' particolare, quindi quella di non offrire una corsa nel centro storico della città, là dove ci sono la maggior parte delle corse podistiche che si svolgono, ma di venire in periferia, in questo caso la periferia del quarto municipio di Pietralato. Una scelta controcorrente che però rivendichiamo con forza. Oltre 200 podisti hanno preso parte a Pietralata all'edizione del ritorno di Vivi Città a Roma con un obiettivo ben preciso, correre, camminare, conoscere e vivere le periferie locali. Trentottesimo appuntamento di quella che è la corsa più grande del mondo, una manifestazione podistica internazionale che abbina il lato competitivo della 10 km a un grande spazio dato alla camminata all'unico motoria aperta a tutti. Sono state infatti tantissime le famiglie cittadini che in 34 città italiane ed europee hanno deciso di passare alcune ore assieme in movimento all'aria aperta con un'unica classifica compensata. Il prossimo obiettivo è quello di coinvolgere sempre più persone intorno a queste tematiche. Quest'anno la tematica del diritto all'ambiente, alla pace, alla vita per le persone che sono in carcere. Vuole cercare di coniugare sempre di più diritti e sport.